Il paziente può sapere il suo stato di salute? Sì, il paziente ha diritto di essere informato dal medico che lo ha in cura sulle sue condizioni cliniche, sulla diagnosi, sulle terapie e i pro e contro delle relative terapie e deve sempre poter accedere alla propria cartella clinica e anche ottenerne copia. Un trattamento sanitario comporta sempre un trattamento di dati personali del paziente, in particolare di dati relativi alla salute, quindi al paziente sono riconosciuti tutti i diritti attribuiti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, tra questi appunto ad esempio il diritto all'accesso che quindi consente al paziente di accedere ai propri dati sanitari e alla documentazione nella quale gli stessi sono contenuti. Anche il diritto alla cancellazione dei dati personali è un altro diritto di cui il paziente può usufruire il cosiddetto diritto all'oblio. Sorge nel momento in cui viene meno la finalità di diagnosi e cura che ha giustificato di fatto il trattamento dei dati personali del paziente, ma questo diritto alla cancellazione che quindi consente al paziente di richiedere e di ottenere dal titolare del trattamento dei dati personali che in questo caso è la struttura sanitaria sostanzialmente, la cancellazione dei propri dati non è un diritto assoluto perché comunque deve essere contemperato con il diritto di difesa della struttura che deve comunque poter conservare i dati del paziente al fine di potersi difendere da eventuali contestazioni e quindi questo diritto permane comunque per un po' di tempo.